E' bello, è pronto, è bello, bellissimo. Questa esperienza ci dice che dobbiamo rafforzare ulteriormente queste reti, che solo attraverso una rete strutturata di servizi, di comunità che aiutino le famiglie nella responsabilità educativa e genitoriale che hanno, in particolare nel caso di bambini e di giovani con disabilità, è fondamentale. Questo viene fatto nel Family Act, in questa riforma integrata che abbiamo voluto approvare come primo atto del governo dopo il lockdown, proposta, nasce dalla proposta di Italia Viva, che credo che in particolare abbia avuto la capacità di cogliere questo elemento. Maggiore sostegno di carattere economico, l'assegno universale maggiorato nel caso di figli disabili, ma soprattutto riconoscimento della necessità di costruire e sostenere una rete di servizi a sostegno delle famiglie. È intervenuto anche il consigliere regionale Federico Talè, il quale, a nome del partito Italia Viva, ha presentato la proposta di modificare il decreto Balduzzi già in atto, con lo scopo di ottenere una rete ospedaliera più funzionante sia nell'entroterra che nella costa. Inoltre, afferma, occorre migliorare la legge dopo di noi. Il dopo di noi. La legge che ha fatto il governo Renzi e che è una legge sacrosanta, in pratica i ragazzi, le persone disabili, quando viene a mancare la famiglia, la famiglia d'origine, molte volte non hanno una destinazione opportuna. La ministra ci ha detto stamattina che in tutti i modi vedremo con questo governo di rifinanziare e quindi di fare in modo che abbia maggior campo d'azione. Tante, inoltre, sono state le criticità e le richieste presentate da parte delle associazioni. Riteniamo che è fondamentale che nel territorio, e comunque così a livello generale, venga rafforzato il tempo dedicato alla famiglia che ha un figlio con disabilità. Il tempo dedicato da parte delle istituzioni, da parte dei servizi. È un tempo dedicato che si concretizza con del personale, che si abbia il tempo per poter permettere una comunicazione importante, costruire una relazione. Perché il progetto di vita di un ragazzo con disabilità non può risolversi in un confronto. Va assolutamente dedicato un percorso. Perché vuol dire che, a questo punto, la comunità non è consapevole del bisogno. Le istituzioni non sanno allora quello che effettivamente è necessario. Quindi il confronto che si è avuto questa mattina, portandoci a conoscenza delle azioni che verranno portate avanti, ci permette di far considerare a chi, appunto, la persona con cui ci siamo confrontati, del bisogno che hanno la famiglia. Percorsi formativi dedicati, percorsi di introduzione nel mondo del lavoro.